Sei pronto a scoprire il successo travolgente di, Viola come il mare 2, in streaming? La serie tv prodotta da Lux, vide e trasmessa su canale 5 ogni giovedì sera sta facendo impazzire il pubblico. E se stasera andrà in onda la terza puntata, la seconda stagione è già disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity. Una scelta che si è rivelata vincente, e ha attirato una vasta fetta di pubblico amante dello streaming. Se già la serie con Kenny Yaman e Francesca Chillemi aveva ottenuto un grande successo con il rilascio in anteprima delle prime tre puntate, adesso i numeri sono davvero stratosferici. Si parlava di record con 4 milioni di visualizzazioni in pochi giorni, poi 8 milioni e adesso addirittura oltre 14 milioni di visualizzazioni. Mediaset festeggia e si prevede che i numeri continueranno a salire. La coppia di protagonisti, Kenny Yaman e Francesca Chillemi, sta convincendo sempre di più sul set. Se già nella prima stagione avevano conquistato il pubblico con la loro alchimia perfetta. In, Viola come il mare 2, hanno fatto ancora meglio. Non importa cosa si dice sulle voci riguardanti i due attori, sul set la loro interpretazione funziona alla grande. Francesco Demire e Viola Vitale hanno un rapporto perfetto che, in questa seconda stagione, riesce a divertire e commuovere. In attesa di scoprire i prossimi sviluppi della seconda stagione, dove un mistero coinvolgerà i protagonisti, i numeri finora registrati, fanno di, Viola come il mare 2, il prodotto più visto on demand in così breve tempo. Inoltre, c'è un altro aspetto innovativo che riguarda la serie con Francesca Chillemi e Kenny Yaman, e che riguarda il modo in cui vengono misurati gli ascolti tra la fruizione streaming e la visione in contemporanea in televisione. Questo nuovo modello, chiamato Total TV, si distacca dai vecchi metodi e apre la strada al futuro della fruizione dei contenuti televisivi. Insomma, Viola come il mare 2, sta ottenendo un successo straordinario e sembra destinata a conquistare sempre più spettatori. Buona visione!